Marco Carta Tale quale show 2017, il vincitore è Marco Carta. Le prossime tre puntate, la sfida dei campioni. Tale quale show 2017, il vincitore della settima edizione è Marco Carta. Ora le prossime tre puntate con i campioni delle vecchie edizioni. Tale quale show 2017, si consacra come vincitore Marco Carta, il trasformista che più ha convinto lungo questa settima edizione del fortunato programma di Rai 1, guidato dallimpeccabile Carlo Conti. Il secondo gradino del podio lo conquista l'eccellente Annalisa Minetti. Il bronzo è invece per l'ottimo Filippo Bisciglia. Si passa la medaglia di legno, portata a casa da Federico Angelucci. . 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 Di chiudere lo show e dare appuntamento a venerdì prossimo, ha annunciato che per la gara dei campioni ci sarà l'innesto di un nuovo giudice molto conosciuto, venerdì 17, grande sorpresa. Arriva un altro giudice che riguarda il mio ultimo festival di Sanremo, non posso dire altro. Cala il sipario e rimane l'acquolina in bocca, a chi si riferisce il conduttore fiorentino?. Grazie per la visione.